C'è necessità che da parte dei cittadini e delle istituzioni ci sia una forte solidarietà, condivisione con il lavoro difficile che giornalmente le forze dell'ordine e la magistratura compiono e sviluppano sul territorio, perché il territorio sia nella totale disponibilità dei cittadini senza nessuna limitazione e che la malavita possa essere, non dico sconfitta come sarebbe auspicabile, ma perlomeno messa sotto pressione. Dobbiamo mettere da parte quelli che possono essere gli interessi partitici o politici e rimboccarsi le maniche, mettersi insieme e fare sinergia, perché la sicurezza come la scuola, come la giustizia, come la sanità non può avere ideologie o colore politico. Noi dobbiamo cercare di essere al servizio dei cittadini per il bene comune, questo è il nostro ruolo.